Riaprire sì, ma a che prezzo? L'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha espresso i suoi timori a fronte delle decisioni di molti governi di allentare le misure di confinamento per permettere alle economie nazionali di riprendersi. Le notizie drammatiche che giungono da Nuova Delhi non allentano la tensione. Così il direttore regionale dell'OMS per l'Europa. Penso che sia molto importante rendersi conto che la situazione in India può accadere ovunque. Questa è ancora una grande sfida. Quando le misure di protezione personale vengono allentate, quando ci sono raduni di massa, quando ci sono varianti più contagiose e la copertura vaccinale è ancora bassa, questo può fondamentalmente creare una tempesta perfetta in qualsiasi paese. Intanto la comunità internazionale invia i suoi aiuti in India, fra le nazioni più reattive, Russia, Regno Unito, Finlandia, Austria, Francia, Irlanda e Italia, che hanno spedito anche generatori di ossigeno, ventilatori e la medicina antivirale Remdesivir.